buona siamo in onda gruppo vacanze piemonte si parte con i con i cicotrail è pieno di zanzare andiamo ragazzi che qua ci ammazzano pronti? vai tu? aspetiamo le gerarchie ok Sì. 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 F*** scivola qua eh. Occhio che il… Jacopo non c'è. è un po' contropendente era un po' in contropendenza lì e anche io sono andato dritto lì sono andato dritto ma adesso questi tre qua c'è un paradiso più forte la faglia poi c'è un pezzo in piedi qua adesso dove andiamo? ah beh spero proprio con tutta la salita che ho fatto è finita adesso il faro cazzo rimane frenata è finita come doi è un caffà vedete qua vedi bisogna andare a cambiare non è finita non è finita non è finita non è finita dobbiamo fare l'asciutta questa lei ci mette un po' Jacopo dai ci siamo qua dritto eh andiamo vai vai è meglio farla d'asciutto questo è questo qua il ciclo trail è finito? sì ok ok